Ciao a tutti ragazzi Io e Piccettino vi portiamo proprio nella data ufficiale d'uscita A parlare del numero 440 di Dilan Dog Ok qualcuno ce l'ha già da qualche giorno come me Perché sapete che nelle parti d'Italia la data d'uscita è aleatoria Mettete sempre un più o meno due giorni Due giorni fa era uscito a Cremona Ma oggi 29 aprile 2023 è la sua data Quindi parliamo del Dilan Dog 440 Primo Dilan a prezzo di 4,90€ A prezzo che si mi scoccia un po' perché quando c'è un aumento ovviamente scoccia sempre a tutti Però ancora abbastanza a focus Intanto cerchiamo di mettere a posto giù Bene Targettone anche per lui perché lo trovate con attaccato le due mini copertine Col numero 1 e col numero 100 Io ho preso quella col numero 100 Non per interesse particolare ma perché era l'unica che c'era E Dilan contiene anche 4 culetti magnetici Perché queste mini copertine senza il pezzettino magnetico non si attaccano Non diventano magnetini Con i culetti magnetici Dilan ne contiene ben 4 Potete trasformarle in magneti che sono più o meno la stregua delle patatine San Carlo La roba che trovate una volta in omaggio E attaccarle dove volete Le mie stanno sul frigorifero Alla fine di questa baracconata vi farò vedere il frigorifero con tutte quelle che ci ho attaccato Non ve la faccio vedere perché sapete che la trovo il giusto importante Mentre invece trovo un pochino più difficile parlare delle copertine Perché anche Gianluca e Raul Cestaro subiscono l'idiozia del mese È l'ultima per fortuna Con questo omaggio alla mano rossa di Tex che effettivamente non ne sentivamo bisogno A onor del vero devo dire Dilan forse è quello che ne esce meno peggio di tutti gli altri Perché il bianco sembra sempre un pezzo dimenticato di colorare in copertina Come dissi per Tex Wheeler Anche se contrasto bianco nero Devo essere sincero Tutto sommato stonato non è Dilan è in versione poseristica Ma meno ridicolo degli altri E un pochino più dignitoso degli altri Devo essere sincero Forse perché la stessa posa non si prende eccessivamente sul serio Quindi mi fa piacere Cioè al posto del Tesco La faccia di Gruccio sarebbe stata la cosa più figa del mondo Però anche così si prende meno sul serio E più digeribile Ovviamente non troverete Raul e Gianluca ai massimi livelli Ma li troverete dal prossimo mese Perché torneranno a fare quello che sanno fare Oggi anche loro si immolano per questa cialtronata di casa Bonelli Perché è una cialtronata queste copertine fatte così Perdonatemi ma quando mi sento di dirlo ve lo dico Però ora apriamo l'albo Aprendo l'albo Abbiamo i nostri amici di casa Bonelli Davide Bonelli che ci fa il suo editoriale su L'aumento dei prezzi E il perché delle targhettine Delle mini copertine Non mi dilungherò Ho già detto tutto nel video su Dragonero Andate a ripescarlo lì Ma sarà anche l'ultima volta che vedremo questo Quindi dal mese prossimo non ce l'abbiamo più Quindi chi l'ha letto l'ha letto Chi non l'ha letto Ultima chiamata per leggerselo O meglio ultima chiamata di roba nuova per leggerselo Dylan Dog Horror Club Bravo Roberto Recchioni Oh tre su tre Così si fanno gli editoriali Almeno dal mio punto di vista Basta scialappate a destra manca Basta slinguazzate al limite del frizzo e lazzo Verso autori che non ne hanno bisogno Ma un bel focus sul contenuto dell'albo Sulle ispirazioni dell'albo Una bella disamina su un qualcosa che è legato all'albo Su suggerimenti Qua abbiamo il giallo classico L'Agata Christie Abbiamo dei bellissimi riferimenti Abbiamo proprio la Come posso dire La voglia di leggere E la voglia di trovarci A Come posso dire Al cospetto di un qualcosa Che ci dà un minimo di arricchimento Bello Mi è piaciuto Due menzioni speciali E una meno speciale Citarmi Invito a cena con delitto E Scooby Doo Che io adoro Chapeau Detective Conan Io lo detesto Visceralmente Trovarmelo proprio spiazzellato qua sotto Però vabbè Ok A parte i gusti personali Ci siamo Bravissimo Roberto Recchioni Peccato che sta quadra L'abbiamo presa Stando ai social Sulla coda Della sua direzione Direzione curatelica Di Dylan Dog Peccato Però Meglio tardi Che mai Entriamo adesso Nel vivo Il vivo è Giorgio Pontrelli E i suoi disegni Partiamo subito Giorgio Pontrelli Prende E spara Il cast di assassino Sullo rente express Nella storia Fondamentalmente Quindi se tutti i volti Vi suoneranno Praticamente familiari Il suo stile Non è L'iperrealismo Il suo stile Non è Per modo di dire Un freghieri O un O un Come posso dire O un roi Ma è Uno stile Molto più Graffiato Molto più Come posso dire Non saprei come dirvelo Lui disegna Emozionalmente Sono Graffi Sono Non dico abbozzati Perché sarebbe sbagliato Però è molto più schematico E molto più Pulito Di tanti altri E a me piace un sacco Il suo stile Certo Sono conscio che può Non piacere a tutti Perché magari alcuni Vogliono Il dettaglino Lui invece è molto più Senza tralasciare La leggibilità Ovviamente Ma è molto più sintetico Anche se Quando serve Butta dentro Veramente il mondo Nelle tavole I personaggi Sono molto belli Molto riconoscibili Ok Intanto c'è qualche anatomia Un po' strana Però Nulla di Particolarmente Disturbante O sbagliato Se mi passate il termine Conscio che Possa non piacere a tutti Io vi dico A me Giorgio Puntrelli Piace Sono convinto Che possa Veramente Essere Annoverato Tra i nuovi Instant classic Di Dylan Dove Come tratto E più di così Non Non mi sento Di aggiungere Perché ragazzi È Veramente Una Una gran bella storia Disegnata Molto bene Record Secondo me Anche Sulla caratterizzazione Di Dylan Perché un Dylan Giacca cravattato Per praticamente L'intero albo Salvo Qualche vignetta Di flashback Non capitava Da mai Credo Quindi penso Che Puntrelli Abbia il record Del Dylan Meno Giacca nera E camicia rossa Raffigurato In un intero albo Penso che sia un record Dovrei andare a verificare Ma credo che sia Il record Sia in mano A Giorgio Puntrelli Promosso Luca Vanzella Eh Luca Vanzella Particolare ragazzi Zia Maribel E il suo parentato Un Dylan Dog In giacca e cravatta Che fa Da anfitrione Ad una cena In una Villa Difficilmente Raggiungibile Com'è finito lì? Beh Lo scopriamo Sia dalle sue parole Sia dalle parole Di un fantasma E sia da un flashback Con un grucio sugli scudi A mille Qua abbiamo una Frizzantezza Di incipit Clamorosa Bellissimo Mi è piaciuto Un sacco Era da un bel po' Che non vedevo Un incipit Sempre Cliente E caso Da seguire Ma così Particolare Così fresco Piccolo spoiler Non è la prima volta Che Dylan viene assunto Da un fantasma Ma questa freschezza Questa scelta Questa Questo scorrere Di avvenimenti Raccontati così Sono veramente Magna Mi è piaciuto Un sacco Poi ovvio La storia Cade un po' Nei cliché Ma è anche giusto Perché già Nell'horror post Si parla Di cliché Quindi finiamo Nei cliché Nella quale Esso Dylan Nella storia Si autoprende in giro Dicendo che lui Non è Hercule Poirot Che ci sono i cliché Della casa Abbandonata Delle persone Che nascondono Un mistero Eccetera Veramente molto Molto bello Tutto questo Rende la narrazione Un po' Un richiamo A me ha ricordato Un po' Anche Il castello della paura Mi ha ricordato Un pochino Anche sette anime Dannate Mi ha ricordato Un po' Questi albi Il che me l'ha fatto Un po' Alzare come gradimento In sé è molto carino Allora Dylan Non è perfetto In questa storia Ci sono Due o tre cose Che non mi hanno Tre cose Che non mi hanno Particolarmente convinto Ma che Per Fruizione Magari ci metto Un attimo Ci stendo un attimo Un velo Magari ve le dico Dopo Questo Lato positivo È che sicuramente Questa storia È molto gradevole E molto interessante La gente che l'ha letta Secondo me Si sentirà a suo agio A leggere Un Dylan così È un Dylan molto old school Molto Di maniera Molto divertente Non è un'indagine Vera e propria Però l'indagine c'è E Dylan si dimostra In grado Di seguirla È un giallo Classico Con I personaggi Che si muovono Su questo palcoscenico Quasi fissa Che è Questa Questa villa Con un finale Che definirei Anche abbastanza Tragico Soprattutto per Per come Ci viene portato Alla fine L'ultima tavola Secondo me È una delle cose Più tragiche Che ho visto Di recente Quindi davvero Complimenti a Luca Vanzella E al suo Giallo classico Perché questo È un giallo classico Vi dicevo che ci sono Alcune cose Che non mi hanno convinto Beh la prima È Dylan In Un certo momento In cui così D'Amblè Trova non uno Ma due passaggi Segreti Così Perché Perché sì Cioè non c'è un qualcosa Che trova un buon osservatore E pam pam Non lo so Questa cosa Non mi ha convinto Particolarmente Però Serviva per la trama Le pagine sono quelle Facciamocela Andar bene Punto numero due Cioè la combinazione Della Della cassaforte Francis Tutti a dare Numere Lei spara dei numeri Senza giustificarli A posto Si apre Questa cosa Non mi è piaciuta Anche se magari Può essere legata Alla truffa Che si stava facendo Su Maribel Quindi potrebbe anche essere Quella sottointesa Magari Però Lì per lì Di primo acchitto Mi è piaciuta Veramente poco Ancora Francis La ragazza La nostra Come posso definirla Infermiera Chiamiamola così Si mette ad abbracciarle 3x2 Si conoscono Da 12 secondi Sai che tutti Hanno un Un passato Burrascoso Perché te ne sei Già interessato Prima Poi ha avuto Delle conferme Dopo Però te la abbracci In allegria Forse perché È la più carina Del gruppo Vecchio Marpioncello Dilagnato Però Questa cosa Un pochino Mi ha dato fastidio Soprattutto in virtù Di quello che poi Sarà il finale Ultima E non ultima Ragazzi Devo dire che È molto veloce È davvero molto veloce Tutto questo Calderone Secondo me Qualche pagina in più Non sarebbe guastata In questo album Quindi Ve lo promuovo Sì Al netto di queste cose Che mi hanno dato Un filino fastidio Devo essere sincero Ed è Un album Che davvero Mi ha comunque Fatto respirare Un Dylan che fu Ci sono Delle imperfezioni Ci sono delle piccole cose Che vi piegano Un po' La 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 sospensione D'incredulità Però ragazzi Io personalmente Io Gianluca Nel 2023 Dopo Anni di Mirabolanti Mirabilie Che sono state Quello che sono state Ritrovarmi in mano Un Dylan Così Così Dylan Davvero Ne sono Entusiasta L'ho letto Con sacrosanto Piacere L'ho letto Non per dovere Di cronaca Per farvi una recensione Ma proprio perché Avevo voglia di leggere Luca Vanzella Ha tante frecce Al suo arco E secondo me È molto molto bravo È uno dei sceneggiatori Che secondo me Sulla distanza Potrà darci Tante altre perle Dilagnate E questa È una dei primi E questo è uno Dei primi tasselli Di questa sua Crescita Quindi ragazzi Davvero Per me Questo E poi non ne rimase Nessuno È un ottimo È un ottimo Dylan Ovvio Un ottimo Dylan Rapportato nel 2023 Questo comunque Sarebbe stato Una buonissima lettura Anche nei primi 150 Dylan Assolutamente Promosso Sì Da leggere Per me Sì Entertainment Puro Evasione Pura Come può essere Un libro Di Agatha Christie Posso dirvi Che quindi È un sì È un sì Grosso come una casa E vi invito A recuperarlo Invito anche Questo non lo faccio mai Ma oggi mi sento Di farlo Tutti coloro Che avevano abbandonato Un po' Dylan Dog Avevano detto Basta Dopo alcune scelte Di redazione Che magari Non erano totalmente Condivisibili Dal Dai vecchi lupi Dilagnati Invito A dare possibilità A questo Dylan Così Perché siamo Scusate Tre su tre Di rotta Buona Questo è un Dylan Dog Buono È un Dylan Dog La rotta Secondo me Tracciata Con questa Restaurazione È assolutamente Positiva Per la testata Almeno per quanto Riguarda la mia Concezione So che poi ci sono Altri che Però ragazzi Per quanto mi riguarda Io compro un fumetto Che si chiama Dylan Dog Questo è un Dylan Dog Punto Per me è un sì Ve lo consiglio Poi ovviamente Vi invito invece Anche a scrivere Nei commenti Se qualcuno è d'accordo Se qualcuno vorrebbe Altro A dirmi che cosa Vorrebbe Se questo tipo di Narrazione Invece Non lo Non lo aggrada Perché sono molto curioso È una roba Che ho in testa Da un po' Di fare una chiacchierata Su queste cose Magari raccogliamo Materiali Intanto però E poi non è rimasto Nessuno E ne dico la da Oggi Ci starà per tutto il mese Non c'è Nessunissimo motivo Per cui voi Non dobbiate Comprarlo A meno che Non siate Odiatore di Dylan Dog O non vi piaccia Proprio il fumetto Dylan Dog T skipped T unjust Timm 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 Grazie.